seconda edizione online dell'Uncomersion Breakfast Challenge quindi la sfida ritorniamo più carichi dell'anno scorso per questa seconda edizione con tante novità quindi aiuteremo a creare queste colazioni inclusive quindi per gli Uncomersion Foodies quindi il mondo dei vegetariani, vegani, cediaci intoleranti a autosio, sportivi, ebrei musulmani ma che parlano sempre e comunque del territorio che aiutano a generare perfino nuove prenotazioni avremo delle case history anche dell'anno scorso che vi porteremo in luce in modo tale da darvi sempre nuovi spunti tra le novità di quest'anno, di questa edizione abbiamo anche il coinvolgimento quindi a parte il banco alimentare che è fisso chiaramente e con quale collaboriamo e devolviamo anche una parte in beneficenza avremo l'ospite d'onore diciamo l'onorevole Maria Chiara Gadda che è l'ideatrice della legge Gadda la legge 166 del 2016 che parla proprio dell'antispreco non solo alimentare ma ci saranno altre categorie ebbene c'è sempre di più questo bisogno di raccontare e comunicare come non si spreca o si riducono gli sprechi nelle diverse aree appunto nella maniera più corretta possibile e anche etica quindi il fattore coerenza e il fattore trasparenza ecco mettiamola così quindi usciremo fuori con delle nuove linee guida però poi per aiutarvi anche in questo anche perché molte volte facciamo qualcosa insomma per ridurre o per evitare degli sprechi e la domanda è quindi la stiamo comunicando questa cosa sì o no se la stiamo comunicando in che modo come altro possiamo comunicarla e stiamo coinvolgendo le persone intorno a noi che si tratti di ospiti o collaboratori se sì quanto e in che modo ecco queste sono solo alcune delle piccole sfide che vi porteremo in luce e chi si cimenterà in queste sfide quindi avrà modo di raccontarci la propria storia ognuno nel suo piccolo e quindi verranno selezionate le case history, le best practice più belle e migliori secondo anche le nostre linee guida tale per cui avrete visibilità sia sui miei canali social e per quanto riguarda i video sul mio canale YouTube dell'Ancomercial Hospitality quindi anche il mio podcast ma poi alcune verranno selezionate e andranno anche sul sito dell'onorevole Maria Chiara Gadda quindi io non spreco perché quindi ci sarà appunto questa operazione con l'hashtag io non spreco perché e ne vedremo di più nelle prossime puntate appunto nella seconda e terza puntata quindi vi guideremo in questo sistema in questo format a modi sfida dove comunque come l'anno scorso creeremo delle stanze virtuali vi manderò in quarantena anche quest'anno per 15-20 minuti poi ritorneremo quindi faremo dei lavori di gruppo cooperazione e competizione saranno le parole chiave anche quest'anno in un'unità comunque diversa ecco ognuno dovrà essere in grado poi di lavorare sul proprio caso sulla propria attività azienda o comunque nel proprio piccolo per diciamo costruirsi il vestito su misura quindi noi daremo sì degli ingredienti principali ma poi ognuno dovrà comporre poi la propria ricetta quindi dopo la challenge dopo le quattro puntate quindi vi monitoreremo e vi seguiremo per capire chi mette in pratica cose in che modo e che risultati produce come abbiamo fatto appunto un po' anche l'anno scorso con alcuni dei challengers della prima puntata della prima edizione ecco e quindi la giuria ovviamente la sveremo solamente anche questa volta a partire dalla quarta puntata e quindi insomma sarà una cosa anche qui sempre divertente molto easy che però appunto ci deve servire per creare questa questa nuova modalità di consapevolezza ecco nell'ultima puntata quindi il 9 febbraio avremo un ospite internazionale quindi l'Uncommercial Breakfast è sempre più international e avremo il piacere di ospitare fra le special guest e trainer Yvonne Maffei che è la fondatrice di Maya Lal Kitchen questa è una donna fantastica straordinaria itola americana metà sicula per la verità e lei si collegherà da San Diego California quindi quando da noi saranno le tre e mezza del pomeriggio da lei poverina saranno le sei e mezza del mattino quindi altro che colazione e lei ci racconterà le colazioni ad Al Friendly sempre una chiave comunque made in Italy sempre in linea con la nostra filosofia e con il nostro obiettivo della challenge e insomma questi sono solo alcuni degli spunti alcune delle novità poi come sapete con me con la parte in convention ogni puntata può essere una sorpresa ecco ebbene siamo sempre alla ricerca vi ripeto delle prossime storie di successo da raccontare persone in realtà che siano una fonte di ispirazione questa challenge è aperta a tutta la filiera turistica ancora di più quest'anno quindi non solo chi ha a che fare con il mondo delle colazioni ha una struttura alberghiera o extraverghera ma anche chi ha prodotti per le colazioni per esempio quindi chi ha dei prodotti del territorio tipici tali per cui meritano di essere raccontati meritano di fare anche il networking con il resto del gruppo ecco anche gli istituti alberghieri di accoglienza turistica insomma davvero tutta tutta la filiera turistica tour operatori inclusi siete organizzazioni società di catering eventi quindi davvero ogni azienda nel suo piccolo può raccontare il suo io non spreco perché è ovviamente una challenge aperta anche ai media abbiamo deciso quindi anche chi si occupa di comunicazione può far parte di questa mini sfida e raccontare anche proprio a livello comunque di media che cosa fate per ridurre gli sprechi quindi magari non ci avete mai pensato a comunicare questa cosa qui bene vi diamo l'occasione avete anche voi questa bellissima opportunità di diffondere questo messaggio vi rimando il link per tutti i dettagli e contattatevi pure per capire in quale modalità partecipare insieme ciao 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 ciao